Ragazzone di eccoci siamo tornati con un nuovo video Oggi ragazzi è un video molto molto importante per il Pro Club Oggi si parla di una delle cose più importanti Proprio perché andiamo a vedere quelli che sono le skill points Ma non solo, più propriamente le PE Perché il giocatore virtuale in Pro Club ragazzi aumenta, cresce in base a molti fattori Un fattore sicuramente è il numero di partite Ma altri fattori incidono grazie alla prestazione in game del vostro bot Questo vuol dire che se il bot prende un valore di voto uguale a X Determinerà una crescita ben specifica e ben precisa Electronic Arts ci fornisce una tabella dove poter vedere come cresce e perché cresce il nostro bot Andremo ad analizzare più avanti Quello che ci interessa è capire come fare per boostare al meglio il nostro bot Abbiamo visto come sbloccare tutte le skill points in maniera veloce e rapida Ma questo non implica che sbloccare le skill points vuol dire una crescita esponenziale del bot stesso Dal punto di vista di stats Tutti sappiamo che cos'è il bot Però non tutti sanno cosa sono i PE Oltre a questo andremo a vedere quella che è la tabella Che ci farà capire Ovviamente quanti sono i max skill points da sbloccare Ma non solo L'overall massimo del bot che andrete a settare In base all'altezza e del peso In base anche alle vostre prestazioni Ci sono calcoli dietro incredibili ragazzi Infatti c'è un file Excel dove si esterna tutta la crescita del bot Sembra una cosa stupida ma non lo è Quest'anno FIFA 21 Pro Club è stato settato a regola d'arte Dal punto di vista logistico della crescita del bot Basta chiacchiere e andiamo a vedere nello specifico di cosa si tratta Siete pronti? Via! Eccoci ragazzi Siamo qui sulla schermata di Electronic Arts Per quanto riguarda FIFA Pro Club Vedete la directory Electronic Arts inizio FIFA 21 Quindi nella sezione FIFA 21 poi troviamo FIFA Pro Club All'interno di questa pagina Vi è correlato tutto ciò che concerne il nostro amato Pro Club Tutta la sezione della crescita del bot FIFA Pro Club lo leggiamo insieme lo valutiamo insieme E non dimenticate fate qua sotto le domande sul post sul video Perché è fondamentale quindi il vostro feedback è più importante di quello che dico io Così risponderemo e magari faremo un altro video più esplicativo Per quanto riguarda la parte della scritta qui iniziale Ovviamente fanno un excursus su cosa sia il problema ma lo sappiamo benissimo È uscito negli ultimi giorni di settembre La cosa più importante ovviamente è questa la prima parte che evidenzia cosa è il giocatore virtuale Ma tutti lo sanno lo definiamo il bot Ma soprattutto cosa sono gli PE Punti esperienza accumulati Che ovviamente si ottengono terminando delle partite in campionato e coppa Ecco questa è una cosa importante L'anno scorso se non erro I PE si potevano ottenere solamente tra virgolette con divisioni o partite al volo Questa volta si ottengono anche con le partite di coppa Quindi segnate questa cosa Dice accumulando PE migliori gli attributi e la valutazione totale del calciatore virtuale Quindi accumulando questi punti esperienza il giocatore aumenterà di stats Si possono accumulare due tipi di PE Per partita base PE partita base come sto sottolineando adesso E PE bonus A noi ci interessano ovviamente principalmente quelli di partita base Perché sono i PE che si aggiungono al PE di partenza Ossia dallo zero Con delle regole ben precise e ben comprensibili per ciascun ruolo Vengono esplicati quelli che sono i PE partita base Garantiscono al calciatore virtuale una certa quantità di PE in base alla valutazione ottenuta in partita Quindi la valutazione è direttamente proporzionale alla crescita del giocatore Questo è il senso, è quello che dovete capire Quindi giocare bene o giocare male Chiudere una partita o stopparla a metà tempo Perché si deve uscire per qualsiasi motivazione È ben diverso Quindi scindete il fatto di poter giocare partite casualmente o a raffica o random Quitandole Pensando di poter crescere al meglio il vostro botto Il vostro calciatore virtuale Non è così La valutazione di ogni partita da zero a dieci Garantisce un certo numero di PE I PE vengono assegnati agli attributi del calciatore virtuale In base a quelli essi che è considerato primario Secondario o terziario per il ruolo Quindi questi PE vengono assegnati in base al ruolo Questa è un'altra cosa importante da segnare Gli attributi primari ottengono il 100% dei PE legati alla valutazione ricevuta in partita Mentre i secondari 70% e i terziari 30% ne ricevono di meno Quindi gli attributi primari sono la cosa più importante Ma valutiamo subito, ci arriviamo dopo Quelli che sono i PE distribuiti per partita base Valutazione partita zero ti dà comunque un PE di partenza 75 Valutazione partita uno 150 Vabbè ma queste valutazioni partita regà Cioè non si sono mai viste Chi è che prende uno in una partita di divisione Non scherziamo Comunque quello che ci interessa credo che è questa fascia qua di voto Diciamo dal 3 in poi Se prendi 3 di valutazione ti danno 450 punti esperienza 4, 600, 5, 700, 6, 800, 7, 9, 50, 8, 1100, 9, 12, 75, 10, 1500 Quindi in base alla valutazione in partita ricevi questo bottino di punti esperienza Ma non è ovviamente così semplice Perché a questa attribuzione voto in partita uguale tot PE Si aggiungono anche come abbiamo detto prima Quelli, le valutazioni decimali come 4,2 Vengono arrotondate per difetto alla valutazione inferiore nel calcolo di PE largiti Questo è importante Però questo è tutto un calcolo matematico che ogni partita ragazzi non è che facciamo Una domanda che sorge spontanea Come capisco quale attributo è primario, secondario o terziario? Noi adesso vedendo tutti i ruoli li espandiamo e capiamo di cosa si tratta Per quanto riguarda l'attaccante vedete Forza, riflessi, accelerazione, velocità scatto, finalizzazione, precisione di testa, potenza tiro Tiri da distanza, tiro al volo, passaggio corti, posizionamento ad attacco, controllo di palla e dribbling E così via per gli altri ruoli come ad esempio l'esterno sinistro e esterno destro Che viene qua definito ESD ovviamente in italiano Ha tutte le altre proprie caratteristiche tra cui visione, cross, passaggi corti, controllo palla, dribbling e molte altre Le vediamo di fretta tutte quante, non le elenchiamo che non ha senso Poi ve le vedete con calma Queste sono quelle del COC Queste quelle del CDC Queste quelle del TS Del TD Queste quelle del DC Queste quelle del portiere infine Qua questa parte la leggiamo perché è molto importante Gli attributi secondari e terziari del tuo calciatore possono variare ma è possibile determinarli con qualche calcolo Prima di tutto è necessaria la media di tutti gli attributi primari Quindi ciascuna per il proprio ruolo di riferimento Per ottenerla somma i valori di tutti i tuoi attributi primari e dividi il risultato per il loro numero Quindi è una sommatoria diviso quanti sono effettivamente Moltiplica poi la media per il coefficiente 0,85 per ottenere la soglia dei secondari Arrotondando sempre per difetto Questo ragazzi è un calcolo matematico che può servire o comunque non può servire Perché ogni partita non stiamo lì a calcolare l'attributo primario, secondario o terziario Però il mio intento era quello di far capire un minimo come funzionasse A parte questi calcoli matematici che nessuno farà ovviamente ogni tot partite Andiamo a vedere un altro argomento importante dei P e dei punti esperienza che sono quelli bonus Cosa sono? Durante una partita il tuo calciatore virtuale può ottenere P e bonus eseguendo azioni specifiche I P e bonus funzionano in modo diverso rispetto ai P e partiti a base E si applicano solo ad attributi ben precisi in base alla tipologia di azione effettuata Quindi questo è molto importante perché è singolare ed è indipendente Da tutto il meccanismo meccanico e matematico che abbiamo visto prima Gol dentro l'area 40 P e finalizzazione Gol fuori area, tirito alla distanza 50 P e potenza tiro 20 P e finalizzazione 3 gol segnati in tripletta 75 P e tirito alla distanza 75 P e rigore trasformato 150 P e che secondo me è anche troppo perché... Vabbè è una mia valutazione Punizione segnata, precisione punizione 200 P e ci sta Assist 10, assist passaggi corti 10 P e... Boh, pochino Visione 25 P e passaggi lunghi 10 P e Secondo assist 30 P e passaggi corti 30 P e Io avrei dato qualcosa in più nei P e dei passaggi degli assist però Passaggio chiave, visione 30 P e passaggi corti 30 P e... Passaggio corto riuscito 3 P e... Cioè loro calcolano pure l'unico passaggio corto che fai in tutta la partita Se ne fai 100 e ti calcolano quel passaggio corto Passaggio lungo riuscito 4 P e... Figa questa cosa Cross riuscito 5 P e... Dribbling 25 P, agilità 15 P, controllo palla 15 P e... Contrasto sui 5 P, blocco 5 P, intercettazione 10 P, colpo di testa vincente 5 P, precisione di testa 10 P E poi ci sono tutti quelli dei portieri, ve li dico al volo Tiro bloccato 10, respinto 10 P, rigore parato 50 P che secondo me è poco Perché rigore realizzato 200 perché parato 50, comunque Cross intercettato 10 P e rete inviolata 30 P che è poco Ecco facciamo un esempio tangibile come c'è scritto qui nella descrizione Per esempio immaginiamo che tu abbia segnato un gol da fuori aria con il tuo calciatore virtuale Questo garantirebbe al calciatore virtuale 50 P e bonus all'attributo tiro dalla distanza e 20 P e bonus all'attributo potenza di tiro Sì perché quei P e corrispondono direttamente a quella specifica sezione Ragazzi è una figata se ci pensate Dopo tutto questo excursus ci si chiede quanto posso aumentare gli attributi del bot Beh per questo c'è una tabella unica Excel che vi faccio vedere in un prossimo video perché è veramente un argomento molto molto corposo E invece qui ci fanno vedere ovviamente quelle che sono i punti abilità per partita svolta I skill points per capirci È un argomento che abbiamo già affrontato in parte Però vi volevo far vedere quella che è la tabella effettiva di quanti skill points si sbloccano in totale E di come si sbloccano dopo tot partite La cosa interessante sono i 110 punti abilità come sto rimarcando adesso nello schermo Ovviamente viene rimarcato il fatto che 95 sono quelli che sbloccherai quindi ci sono quelli di partenza Dice anche che i 95 punti vengono sbloccati tramite gare specifiche Ma questo non ci interessa l'importante è che sappiamo che si ottengono tramite le partite di divisione con il club Mi raccomando con il club qui c'è la tabellina con le partite giocate Vedete a sinistra i premi punti abilità quindi quanti ne ottieni E i punti abilità totali quanti ne hai effettivamente in quello specifico momento Quindi vedete c'è un più 3, un più 5, un più 3, una serie di punti abilità che sblocchi dopo alcune partite Il massimo dei punti che si sbloccheranno come abbiamo già detto sono 110 Eccolo qui In 100 partite e l'ultimo step è un più 5 L'ultima parte della schermata riguardante il pro club si sofferma sul fatto di spiegare cosa sono i skill points Per chi ovviamente non li conosce Settare i skill points come abbiamo già detto nei setting bot di partenza sono fondamentali Soprattutto quando vengono sbloccati i 110 skill points totali Questa è una cosa ovviamente bellissima Ci tengo a ridirlo più volte perché rende esclusivo effettivamente il vostro bot Sia dal punto di vista estetico ma in questo caso in ambito di skill points dal punto di vista proprio tecnico Spero che vi sia piaciuto questo excursus e nei prossimi video vedrete la tabella excel dove vengono esplicati tutti i max valori dei giocatori in base a come vengono settati Un abbraccio da Johnny andiamo ai saluti Ragazzi anche quest'oggi abbiamo finito Questo era uno dei video pilastri del pro club Segnatevelo attivate la campanellina perché ce ne saranno disimili Spero che vi sia piaciuto questo è stato interessantissimo scommetto Condividetelo e ditelo anche agli altri perché la crescita del bot è fondamentale E sapere come funziona lo è ancora di più Il pro club su youtube siamo noi Un saluto da Johnny Ciao Ciao